Non si farà mai, perché io da quando sono piccola dicono che devono farla, ma non ci credo. Lei non ci crede? No. Variante della tremezzina. Dopo tanti anni di attesa, il cantiere dovrebbe partire entro la prossima estate. Ma gli abitanti del lago restano scettici e anche il governatore Maroni non sembra così convinto, nonostante lo stanziamento, di 210 milioni di euro da parte del governo, che ha inserito l'opera nello sblocca Italia. Uno stanziamento insufficiente per il presidente Lombardo a fronte di una spesa prevista di 330 milioni. E così, secondo Maroni, è praticamente impossibile pensare di aprire il cantiere entro agosto 2015, come prevede la legge, a meno che il Parlamento non modifichi il decreto prima della conversione, aumentando i fondi. Insomma, il futuro dell'opera resta in bilico. Un'incertezza che non sorprende gli abitanti del centro lago, che da anni aspettano la variante che potrebbe risolvere i problemi della regina, ma che al tempo stesso sono sempre più scettici. Speriamo che la facciano, è un'unica cosa che posso dire. Ma ci crede? Questo è un altro discorso. In Italia, purtroppo, quello che dicono e quello che fanno è molto diverso. Per cui vedremo. Se vogliono, li trovano. Se non vogliono, non li trovano. Per me ci proveranno, però sarà dura. I soldi ci sono, i soldi saltano fuori. Come li hanno trovati? Per fare i lavori in posti dove magari vanno con l'asino e col carretto, noi qui andiamo con le macchine, con i pullman. Il lago è turistico, tante volte ho vergogna dei turisti che transitano, perché sono fermi in colonna, non sanno cosa succede, si meravigliano che la strada è stretta, che non c'è una soluzione migliore. Ha ragione la Lella, noi saremo morti, la variante sarà ancora da fare. Se la fanno, spero che la facciano, ma non che la promettano e basta, la facciano.